Speravamo fosse di portare a casa punti e una prestazione migliore, però non credo sia stata una partita neanche così negativa come magari ho letto e ho sentito parlare oggi. È vero che Renato ha giocato meglio di noi, è inutile negarlo, però di occasioni se ne sono state diverse. Siamo partiti con qualche difficoltà, abbiamo fatto fatica a prendere le misure soprattutto ai loro esterni e hanno creato effettivamente diverse palle gol loro. Poi, come hai detto bene, ci siamo un po' ripresi, siamo stati più quadrati, più compatti e poi davanti abbiamo creato qualcosa. Poi credo che su 2-0 la partita l'abbiamo quasi sempre fatta noi, al di là di qualche contropiede, però credo che ormai era difficile rimetterla in piedi. Possiamo dire che è un Rimini che è già un po' diventato Taddei-Dipendente? Spero non sia così, o meglio, se così dovesse essere, che Taddei ci faccia vincere tutte le partite, però è chiaro che un giocatore come lui, credo anche il mister ve l'abbia detto in più di un'occasione, può cambiare gli equilibri di una partita e questo lo sappiamo, però ieri sicuramente quelli che eravamo senza Riccardo potevamo sicuramente fare meglio e ne siamo consapevoli. Abbiamo un'altra partita da fare senza Riccardo, speriamo sia solo quella, perché comunque, ripeto, è un giocatore molto importante, credo per qualunque squadra della categoria, però dire che siamo Taddei-Dipendente non me la sento, speriamo domenica già di smentire questa voce. Perciò?